Martedì andremo a questa ulteriore riunione che sarà l'ultima per quello che mi riguarda perché da mercoledì se non ci sono atti concreti, devo dire che mi hanno dato delle garanzie verbali ma io non mi accontento di queste, c'è stata collaborazione, ci sono stati gli obiettivi che abbiamo condiviso ma adesso devono arrivare gli atti concreti. Per cui io ho già parlato anche con le rappresentanze della marineria, martedì vediamo quali sono le ultime parole dopodiché faremo una forma di protesta costante finché non arriveranno queste risorse perché parliamoci chiaro, questo dipende dalle disponibilità che la regione ci dà. Per fare un intervento importante ma non risolutivo che serve per dare garanzia per alcuni anni all'interno della quale poi bisogna fare queste scelte strutturali per dire poi finalmente lavoriamo con serenità e diamo tutto lo sviluppo che il porto merita.